POKEMON X WONDERLOCK Da Serena Senti voglio darti questa Otteniamo la MN03 che contiene surf Fantastico Ok ok so benissimo a cosa serve a surf E no questa E' una bella cosa No non voglio le tue lotte E' una bella cosa ragazzi Perché adesso possiamo subito insegnare surf A Vaporeon Eccellente 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 Allora Cosa gli togliamo per surf Beh praticamente potremmo togliere Qualsiasi cosa direi Di levare acquanello perché alla fine Non ci interessa minimamente Ottimo 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 Comunque allora qua per ragazzi abbiamo altre Mosse interessanti come crescipugno Che possiamo insegnare Volendo a Charmeleon oppure Fossa che possiamo insegnare Ecco a Charmeleon o A Danurit devo pensarci Comunque lucidatura anche è una mossa interessante Adesso vedo se insegnare Fossa perché è comunque una mossa lenta Ma vabbè Comunque Possiamo proseguire lungo il percorso 12 Qua c'è Un'allenatrice interessante Questi sono sempre Interessanti Solitamente invece questa ci dice Solamente che qua c'è Una cosa di Skidwee Va bene Allora Allora ragazzi Posso chiederti Ok fantastico Riceviamo l'Apras Nel percorso 12 Ok fantastico L'Apras è un Pokémon Basta sfidare Ah Danazione Basta Allora Abbiamo ottenuto un Lapras Ragazzi Un Pokémon quindi Volendo che potrebbe utilizzare Surf Purtroppo però Voglio solo vedere dove È ok Risulta percorso 12 Quindi va bene Dai Iniziamo la parte Con un bello Scambio prodigioso Con un bel Un bello Scambio Si Suona Beh Con un bello Scambio Sì dai si può dire Non ci facciamo problemi Allora Scambiamo quindi L'Apras E vediamo un po' Quale sarà il nostro Nuovo Pokémon Vediamo Vediamo Dai Vediamo Vediamo Dai Speriamo di ottenere Un nuovo Pokémon Interessante Anche perché adesso Si Non mi va di tornare Indietro a depositare Prendere qualche Pokémon Carino Che magari Mentre Abbiamo uscito A far parte Della squadra Non mi dispiacerebbe Allora Martin Dalla Australia Non mi sembra Sinceramente Un allenatore Che da roba buona Questo È proprio Lo capisco Di proprio Impatto Da come Sono vestiti Da quello che scrivono Quindi Oh Invece no Un Ariyama Un Ariyama Ragazzi La scorsa volta Vi parlavo di Pokémon Di tipo lotta No E Ariyama Effettivamente È un Pokémon Di tipo lotta Oddio Ariyama A giocarlo È un Pokémon Lento Però è potente Boh Adesso controlliamo Anche Il Il suo livello Va Ecco Direi subito Di fare lo scambio prodigioso No Controlliamo Al volo proprio Vuoi effettuare Uno scambio prodigioso Sì Voglio effettuarlo Livello 23 Naturamite Denti stretti Boh Boh Non penso di tenerlo Però adesso non mi va di tornare indietro Quindi lo metto comunque in squadra Allora Cosa dobbiamo fare ragazzi Beh dobbiamo Innanzitutto Attivare il repellente Il repellente Che Dove diavolo si è finito Eccolo qua Allora Poi Vorrei dare un po' di strumenti Alla fine ne abbiamo molti E ancora non ne abbiamo dati A parte che Ok La cintura nera Sarebbe per un pokemon Di tipo lotta Che purtroppo non abbiamo La strageo Potrebbe servire Potremmo potenziare le mosse Di tipo terra Stavo scherzando Non abbiamo mosse Non abbiamo strumenti così Interessanti Alla fine Vabbè La polvo stella La venderò prima o poi Giusto il Bitorso l'elmo Che potrei dare A Vaporeon Potrei darlo sinceramente Anzi Sì Sì Mi sembra un'idea molto più cattiva Strumenti Prendi Potrei darlo a Togeti Perché sì Dai Togeti È proprio Quel pokemon Sul quale tu ti devi Buttare addosso Con le mosse lotta Fai tipo Tre punti salute E ti becchi Tutti quei danni Da bitorso l'elmo Ok mi piace Come strategia E idea Questo ovviamente Allora Un albero spinoso Vuoi utilizzare taglio Voglio utilizzarlo Quindi Anorith Prego E vediamo un attimo qua Tutta questa strada Per una bacca perina Vabbè Non so neppure cosa faccia Ma non dovrebbe essere una bacca Poi così importante Controllerò Adesso Non ho veramente voglia Allora ragazzi Qua C'è un uomo Che ci parla Di quanto è bello il mare Ma sì È veramente fantastico Però non ci interessa Perché vogliamo proseguire Quindi Andiamo per di qua Saltiamo Quello dell'allenatore Perché se no Poi ci tocca giocare Pikachu E Voi oramai odiate Pikachu Quindi Ecco Basta Adesso voglio fare Comunque lottare Anorith Perché ragazzi Presto si evolverà E poi posso Fin da subito Far giocare Vaporin Oramai a surf Può giocare quando vuole Però Vabbè Voglio fare evolvere Anorith Prima di tutto Perché è da tanto Un piccolo Anorith E se la merita troppo L'evoluzione Quindi Prima di tutto Un bel rocciotomba Diminuisce la velocità Però Purtroppo Non Ok La potenza delle mosse elettro È diminuita Come se a noi interessasse qualcosa Finiamola di taglio Perché basta taglio Sì sì Basta Basta No alla fine era uguale Non volevo solo consumare più più Perché la precisione è la stessa Però Allora Tojitik Stava a livello 38 38 Abbiamo sconfitto Quest'uomo Quest'uomo Che Vabbè Aveva solamente un Pokémon Quindi nulla di così Problematico Allora Qua troviamo una Ratable Sulle rocce Vedete ragazzi Ogni tanto Parlare con i sassi Fa bene Là c'è una bella Pokémon Interessante E se non ricordo male Ci dovrebbe essere Anche uno strumento molto buono Quindi adesso vado subito a controllare Ma mi sembra tipo Avanzi Sapete Non so perché ma Mi ricordo Avanzi No forse sbaglio Però era uno strumento molto utile Beh controlliamo E vedete Vedete Avanzi Avanzi Me lo ricordavo bene Quindi Bene I Leftovers Sono degli ottimi strumenti Cioè Addirittura Oddio Sì è vero È veramente un ottimo strumento Vediamolo a Vaporeon Che ci piace Sì ragazzi Anche nel competitivo Diciamo che è uno degli strumenti più utilizzati Quindi ci sta tutto Allora I Pokémon sono la mia famiglia Diciamo che c'è la possibilità di esplorare questo percorso in due modi Il modo non divertente Ovvero quello di affrontare gli allenatori E il modo divertente che andremo presto a vedere Quindi Ok Prima di tutto Battiamo questo Sea Viper Comunque Sì potrei insegnare a Danurit Fosse Sinceramente Togliendo magari Ferrantigli Che Non Non mi è utile per niente Ci penso un attimo Però penso Sì ecco appunto Quanto sto pensando No vabbè Lo tolgo Lo tolgo dai Voglio dire Tolgo Ferrantigli E insegno Fossa Poi Fossa se ne andrà per un bel terremoto Se mai lo prenderemo O se mai vorrà prenderlo O no ragazzi La cicciona che utilizza pazienza è brutta O no ragazzi O no O no O no Allora è brutta perché sì Perché sì Perché ha un sacco di pipì Quindi Di DPS Voglio dire Quindi poi È un casino Mettiamo Togetic Che va A fare il lavoro Per il quale È nato Ovvero quello di far Sfrantumare i Pokémon Su di lui Libera energia Vedete Non so sinceramente Se c'è il contraccolpo Aia che male Se c'è il contraccolpo Del Bitor Solelmo Sì c'è stato Ok Un bel Un bel Congiuro Adesso Mattindoro Ma sì Che bello Che bello Ho rischiato anche Di venire Rotspiddato Però Non è il Militank Di Chiara Quindi non può darci Tutti questi problemi Ok Ok Fantastico Vedete ragazzi Che bello Come si Si distrugge Sul Bitor Solelmo Ok Adesso Giusto per non Stallarla troppo Andiamo di forza Antica Ha un altro Pokémon Oppure Nobu Comunque Brutto colpo Che io Nessun boost Su tutte le statistiche Purtroppo Ha Norit a salita A livello 38 Charmeleon A livello 33 Anche Charmeleon Presto si evolverà Ragazzi Devo dire che Fra uno o due parti Vedremo un sacco Di evoluzioni assieme Vabbè Abbiamo sconfitto Questa qua Voglio andare Però ad esplorare Il percorso Nel modo divertente Ovviamente Quindi Allora Qua c'è Una casetta Che controlliamo subito Oh Attrazione Che bella Che bella Attrazione Ok Beh Un MT in più Non fa mai male Ragazzi Specialmente perché Sono inesauribili Basta comunque Consumare Tutti i repellenti Perché ne abbiamo pochi Devo acquistarne Degli altri E finché siamo qua Meglio Non consumarli Guardate che figo ragazzi Stiamo praticamente Cavalcando Guardate Stiamo cavalcando Uno schiddo E praticamente Schiddo può Può andare Dappertutto Tranne che sulle scale Perché sì Giustamente può saltare Queste cose Ma non va sulle scale È stato destrato bene Quindi a quanto pare Posso magari utilizzare No Ok Basta Saliamo Che bello ragazzi È veramente fighissimo Allora Avevo visto prima Uno strumento da queste parti Quindi non dovrebbe essere Troppo lontano Controlliamo il volo Tanto possiamo andare Dove ci pare Allora Fammi scendere un attimo Qua mi sembra Vero? Esatto Troviamo la dolce spuma Dolce spuma Non è quello strumento brutto Per far evolvere Eh sì Mi sembra sia Sia quello Allora Sì sì Quello per slarp Praticamente Va bene Non ci interessa Io sto cercando Un altro strumento E non ricordo Se si trova In groppa di skid Oppure no Beh Controlleremo il volo Andiamo per di qua Che non l'abbiamo ancora esplorato E vediamo ragazzi Pietra brillo Pietra brillo Eccola qua Cercavo proprio questa Allora Qual è quel pokemon Che deve evolversi Con la pietra brillo E che diventerà fighissimo Ragazzi O indovinate un po' Sì Proprio lui ragazzi Il nostro bellissimo Togetik Finalmente Si evolverà In Togekiss Che bello ragazzi Ah Era un piccolissimo Togepi Si è evoluto in Togetik E adesso Grazie alla pietra brillo Diventerà un Fantastico Togekiss Ragazzi Un pokemon Eccezionale Che più avanti Nella storia Ci tornerà veramente Molto molto utile Datemi solo il tempo Di insegnargli Eterlama Non so sinceramente Se li apprende Con l'evoluzione Ma non credo Lo spero Però Non saprei Vedete Purtroppo no Purtroppo no Adesso è solamente Un Togekiss Spansona Che sfrutterà Ancora meglio Il bitorso Delmo Sì Però purtroppo Non ha preso Eterlama Per insegnargli La c'è bisogno Di Praticamente Di andare Da ricorda mosse Con la squama cuore Comunque Fantastico Abbiamo esplorato Quindi questa parte Grazie Agli skid Adesso possiamo Riattivare Il repellente Perché comunque La cattura L'abbiamo fatta Non è stata Proprio una cattura C'è stato Regalato L'apras Però L'importante È fare lo scambio Prodigioso Ragazzi L'abbiamo fatto Quindi direi Di proseguire Un'allenatrice È stata sconfitta Non so Quanti ne manchino Vabbè La parte figa L'abbiamo fatta Adesso qua Possiamo anche Permetterci di sfidare Il bambino Che parla di Pokemon Coleottero Quindi sia Pokemon di tipo Coleottero E anche meglio Allora Yamna Yamna Ok E E qua Rispondiamo Con il nostro Bellissimo Anorith Andiamo di rocciotomba Beh Un per quattro Che veramente Devasta Non c'è Bisogno di dire Nulla ragazzi Questo Questo rocciotomba È stato Distruttivo Whirlipid Anche Whirlipid Veramente Farà una bruttissima Fine Eccolo Un po' più Pansu Ah è giusto Stavo dicendo Ho perso Due ore a dire Adesso gli insegno Fossa Adesso gli insegno Fossa E poi Non lo faccio Ma sì Perché mi scordo Da nazione Ho pensato A toggeti Che vabbè Adesso Adesso lo faccio Finiamo di battere Questi baccarozzi E poi lo facciamo Quindi Baccarozzo Velenoso Andato Raichu Salita a livello 42 Oramai Raichu Ragazzi È da nazione Lo dici Anche voi Basta giocare Raichu Perché Ci sta Stancato Non siamo Degli Ash Addirittura Avremmo dovuto Lasciare Pikachu Spero che volevamo Fare gli Ash Però Basta Allora Mothim Bene Bene Un bel Rocciotomba Anche Su di Lui Un bel Maschietto Mothim Mi piace Come Pokémon Colleottero Dai Non definiamolo Baccarozzo E Anorith Stalla a livello 39 Oramai prossimo All'evoluzione Ragazzi Per chi ancora Non lo sapesse Anorith Si evolve Nel fantastico Armaldo A livello 40 Eh avevo detto Uno o due parti Ma forse anche In questa E vedremo Comunque 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 Devo insegnare Fossa Quindi Insegniamola Al nostro Anorith Ok 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 Allora A discapita Di Ferratiglio Ok Ferratiglio Erano mosse Interessante Però Veramente È imprecisa E quindi Preferisco Veramente Farne a meno Mi spiace Comunque Allora Passiamo Sull'erba Perché siamo Ah no Vabbè Più che altro Uffa Ho fatto tutta Questa strada E non mi premi Neppure con Con uno Ah vabbè Penso che Lo strumento Nascosto Si da Su quella Roccia Qua c'è Un altro Avicoltore E mi sembra Si che sia finita Addirittura Anche l'erba Quindi potevo Risparmiarmelo Questo repellente Ma noi siamo Ricchi Quindi possiamo Permettercelo Uno Zangus Zangus Ok Anorith Allora Zangus Anorith Rocciotomba Via Subito Olè Fantastico Zangus Distrutto Da questo Portentoso Rocciotomba Ok Vapore Una salita A livello 35 Anche Vapore Una salita Di livello Presto Farò combattere Anche lui Ragazzi State tranquilli Perché si Oramai Ha preso Surf Giusto il tempo Di far Evolvere Anorith Perché a me Armaldo Piace veramente Tanto Quindi E pensare Che Non Non ero Sicuro Di metterlo In squadra Oramai Anorith Diciamo che È diventata Una colonna Portante Del nostro Team Ragazzi Il pacmon È veramente Eccezionale Però Dato che Non riesce A fare Tutti Che TKO Tanto vale Sostituirlo E mandare Vapore Così Lo facciamo Finalmente Combattere Rivincita Ok Rivincita Che fa malino Ma Non ci interessa Noi recuperiamo Punti salute Addirittura Grazie agli avanzi Perché siamo Dei Vaporeon Competitivi E adesso Andiamo ad utilizzare Surf Oh madonna I danni Fantastico Quindi Tauros Non riesce A reggere Surf Vaporeon Guadagna Tantissimi Punti Esperienza Charmillon Sulla livello 34 Ariam Vabbè Al 26 Ma lo sto portando Giusto perché Non mi andava Di tornare al centro Pokemon E vabbè Lo depositerò O in questa parte O Tra questa e la prossima Appena Vediamo il centro Pokemon Allora Ah no Non stava nella roccia Allora Qua troviamo un antigelo Un antigelo Interessante Il pescatore Ok Ecco Lo sapevo che mi avrebbe sfidato Però I pescatori Sono sempre un po' Un'incognita No No L'ho beccato No No Ho beccato L'allenatore Leggendario Dai mille Magikarp No No Vabbè Se è una cosa Vi può rallegrare Finita questa Tortura Si evolverà Norit Rocciotomba Primo Magikarp Andato Prossima scelta Saramagic Un bel Geridos Magari Ce l'hai Devo giocare Raichu Perché ragazzi Se qua falliamo Solo un rocciotomba Poi le lotte Vanno sempre ad aumentare Dobbiamo Assistere a splash Quindi no Veramente Preferisco Spommare Fulmine E finirla Rapidamente Spero almeno Abbia solo Magikarp E no Anche altri Pokémon Magari Moon All'Elettro Acqua Appena inventati Ecco Oh fantastico Honorit Ha salito al 40 Finalmente 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 Ok Magikarp Livello 24 Un bel Fulmine Anche Di qua Ok Via Magikarp Si stanno tutti Al 24 Sono tutti Dei Magikarp Inutili Anche in questo gioco Hanno dovuto Prontamente Mettere il pescatore Dai 6 Magikarp Che serve solo A farmi allungare Le parti Di 3 minuti Ah Dannazione Oramai Se non finiamo La parte Con un evento Spiacevole Nessuno è contento Ecco Proprio nessuno Allora Magikarp Penso sia l'ultimo Gli ho fatti fuori Veramente In una maniera assurda Però purtroppo Ne ha ancora uno No Ne ha anche un Geridos Così per far Farmare esperienza Solo Magikarp La crudeltà Ragazzi Quelli della Game Freak Me li immagino Mentre programmano i giochi Oh si Qua mettiamoci un bel allenatore Che potrebbe dare un nome buono Cos'è Magikarp Ah Dannazione Ok Fulmine Comunque E Magikarp Ci saluta E vai Perfetto Perfetto Abbiamo Allora abbiamo sconfitto Cesidion Bene Bene E Si 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 Anorith ragazzi Si sta evolvendo Finalmente Il nostro Piccolo Anorith Si evolverà Ragazzi Sapete oramai In chi Però godiamoci l'evoluzione Assieme Perché È qualcosa di fantastico Quindi Tan 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 Eccolo Eccolo ragazzi Eccolo Armaldo Ma guardate che figo Cioè ragazzi Come può non piacervi Veramente Fighissimo Veramente Fighissimo Non apprende Nulla Adesso dovrebbe avere Comunque un attacco Spaventoso Controlliamolo Molto rapidamente Guardate 120 d'attacco Qualcosa di Distruttivo Qua c'è Raichu Si Nessuno riesce a B Ho visto un 120 Allora 97 di Raichu Ok Che poi Charmeleon dovrebbe avere Più attacco Che attacco speciale Però effettivamente Natura ha deciso Ok ma Charmeleon Mantiene ancora Le statistiche Di Charizard Finchè non ottiene La mega evoluzione X Quindi va bene Allora Direi di mettere Primo Vaporeon Nel caso ci fosse Qualche nuova lotta Ma penso proprio Di aver finito Continuiamo a camminare Con questo coso E allora Arriviamo a Temperopoli E riceviamo un messaggio Sull'Holvox Ok Stiamo un attimo A sentire Ciao Dark David Ti sfido Nelotta Davanti alla palestra Preparati Ci vediamo là Oh Mi mancavi Veramente Non vedevo l'ora Di fare una nuova lotta Con te A parte che oramai Devo testare la potenza Di Armaldo Quindi ci sta Temperopoli Mi sembra che non ci sia Una città Cioè una città Non mi sembra Ci sia una palestra Allora Verdi qua Si proseguono Ah qua Qua c'è la possibilità Di prendere il treno Praticamente Ah si 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 Mi ricordo tutto Qua C'era una ragazza Che praticamente In base al giorno E in base al quiz Se rispondevate giusto Vi dava la MT Se a dirmi Qual è questa mossa Fa perdere concentrazione Nel nemico Riducendo nell'attacco speciale Confidenza Risposta esatta Come promesso Eccoti un MT MT 100 Confidenza Ok si Me lo ricordavo bene Questa è praticamente Tutte quelle MT Che abbiamo visto Mi sembra anche Acrobazia Dobbiamo tornare domani Vabbè Magari la prenderò Tanto Direi che possiamo interrompere Qua la parte Ragazzi Le cose importanti Le abbiamo fatte Ci diamo appuntamento Quindi Alla prossima Ciao a tutti